Scusa 20 minuti Vista? Carina Bella L'ho pagata 30 euro Ne voleva 60 il tipo Ma dove? Qui in piazza Ma sei sicuro che non ha rubata? Beh, che te frega Mi frega direi Tra l'altro è uguale a quella di mio fratello E a lui l'hanno rubata ieri È identica Ha anche l'adesivo che aveva quella di mio fratello È la sua Guarda, lascia stare Grazie Grazie.